La Sardegna si sta avvicinando all'azzeramento dei contagi. Ieri si è registrato un solo caso che ha portato il totale a 1.317. Anche domenica c'era stato un solo nuovo caso positivo. L'andamento della curva epidemiologica ormai impicchiata fa ben sperare per riavvio di nuove attività produttive e per ulteriori apertura nell'ambito dei rapporti sociali. Ma nonostante i numeri positivi degli ultimi giorni, la parola d'ordine deve essere prudenza. Occorre tenere comportamenti disciplinati sotto il profilo del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Non bisogna farsi prendere dall'euforia, dalla falsa convinzione che tutto sia finito e che quegli accorgimenti utilizzati in questi due mesi lockdown possano finire in soffitta e si possa ritornare alla normale routine pre-covid. Purtroppo per alcuni mesi non sarà così e servirà autocontrollo e grande senso civico, lo stesso che gli italiani sardi hanno mostrato durante la quarantena. Occorre evitare che la fase 2 si trasformi in un libri tuti che farebbe ripartire l'epidemia con danni questa volta irreparabili e a lunghissimo termine. La regione intanto si appresta ad affrontare la fase 2 dell'epidemia con l'attivazione di 32 USCA, le unità speciali di continuità assistenziale create a livello nazionale, al fine di garantire interventi rapidi sul territorio per i casi sospetti o accertati di coronavirus. Composte da 7 operatori, 4 medici e 3 infermieri, le USCA saranno 4 per ASL e saranno attive 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20. L'obiettivo è quello di individuare e isolare immediatamente i nuovi casi di coronavirus per bloccare sul nascere un possibile focolaio o comunque circoscriverlo, evitando che la catena di trasmissione del virus riparta. I team in stretta connessione con i medici di base si occuperanno anche dei pazienti dimessi dalle strutture del Covid. Si entra in una nuova fase della gestione dell'epidemia per evitare nuove sorprese e consentire alla vita delle famiglie e delle attività produttive di ripartire in sicurezza.